Un piano da oltre 7 milioni di euro per cambiare il turismo in Toscana, spingendo i flussi anche in zone oggi meno visitate e magari alleggerendo il turismo di massa nelle grandi città. È quello che si propone di fare la regione che attraverso Toscana Promozione mette in campo un nuovo approccio che risponde all'hashtag Tuscany Together. Il quadro era già stato tracciato con la legge regionale del testo unico sul turismo, adesso sono stati attivati tutti e 28 gli ambiti turistici in cui è stata suddivisa la regione. Attraverso questo metodo di sperimentazione che è accompagnamento ai territori, quindi Toscana Promozione per la prima volta lavora con i territori e lavora con gli operatori dei territori. Noi abbiamo che la filiera compressa del turismo si promuove non soltanto nelle destinazioni più note ma anche in esperienze turistiche o in visita di luoghi che attualmente non sono visti. Quindi abbiamo messo a disposizione degli enti locali ma anche dei soggetti privati tutto un sistema di accompagnamento. Sembra un ritorno alle APT? No, non è un ritorno alle APT perché è l'applicazione di un metodo completamente innovativo e molto orientato al mercato. Noi andremo dove sappiamo che la domanda ci conduce per tipologie di prodotto di nicchia anche molto specifiche e innovative. Perché una particolare attenzione al mercato cinese? Perché tutti gli indici ci orientano verso l'Asia e verso la Cina. Un nuovo mercato emerge una domanda di offerta turistica qualificata, non più massificata, che trova in quel paese numeri assolutamente rilevanti. Siamo stati già felicemente meta attrattiva per il mercato giapponese e coreano ma oggi la Cina si presenta con un interesse che va strutturato e va orientato verso un turismo di qualità sostenibile per la nostra regione.